Noi chiediamo al governo un intervento che deve essere equiparato al turismo, perché noi comunque facciamo parte della filiera del turismo e per esempio le agenzie di viaggi hanno ricevuto il fondo perduto da febbraio a luglio. Noi invece in pratica non siamo stati proprio inseriti nel decreto ristoro. E' uno strato psicologico che proprio l'altro ieri mi ha portato ad avere un infarto, perché il dispiacere di non avere un lavoro, di essere lasciato, abbandonato a 59 anni non è una cosa bella. Non si è né troppo giovani per guardare al futuro e non si è nemmeno troppo anziani per andare in pensione. Io ho la fortuna di avere mia moglie che lavora e alla mia età chiedere i soldi per un pacchetto di sigarette o per mettere il gas nella macchina vi assicuro che è poco gratificante. Aziende che sono nate grazie ai nostri genitori e questa è la cosa che fa rabbia, che ci sono i sacrifici dei nostri genitori, i sacrifici nostri e ci saranno i sacrifici dei nostri figli se riusciremo a vivere. Per una ripresa qui ci vorranno almeno quasi un anno e non sappiamo più come andare avanti con nessun aiuto da parte dello Stato.